Deve scontare tre anni e due mesi per frode nelle pubbliche forniture e nell'esercizio del commercio commessi a Caltanissetta nel 2008. Vincenzo Napolitano, 65 anni, di Modica, è stato arrestato dai carabinieri in ottemperanza a un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta. L'uomo in quel periodo era responsabile della ditta che riforniva le carni alla mensa dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Nel giugno del 2008 i carabinieri del NAS di Ragusa hanno appurato che forniva prodotti di qualità inferiore rispetto al capitolato dal palto ed in fase di alterazione truffando la struttura ospedaliera che avrebbe dovuto pagare merce di qualità scadente al posto di quella prevista di prima qualità. Napolitano, pertanto, è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa.